La prima giornata di campionato, il San Donaiesolo riceve allo Zanutto la San Vitesse, squadra impelagata nella lotta per uscire dalla zona salvezza, la zona rossa, quella difficile, quella che fa vivere questo finale di campionato in difficoltà, mentre il San Donaiesolo è a caccia di punti importanti per i playoff, oggi con la seconda maglia, quella blu scuro con il logo del San Donaiesolo, andiamo a vedere un po' le immagini importanti, le più significative della partita e partiamo dal quinto minuto, la discesa di Lavagnoli, il cross al centro per Amodeo, che salta di testa, il colpo di testa alto di poco sopra la traversa di Benedetti, poi al nono Mbup entra prima su Nicoletti ma non riesce a fargli male, poi va su Lavagnoli e costringe al KO il nostro esterno destro che rimane a terra dolorante per un bel pezzo, poi riprova anche a scendere in campo ma è costretto ad alzare bandiera bianca, al suo posto entrerà il giovane Mattia Baldrocco al tredicesimo, lo stesso minuto di domenica scorsa a Concordia, stavolta ancora più bello, Nicoletti trova il gran gol di sinistro su una rispinta per il sinotto non perfetta, il portiere è rimasto fuori dai pali e Gigio Nicoletti estrae dal cilindro un gran gol, il suo decimo centro in campionato ha scelto il modo migliore per farlo, quello sotto la curva sud del San Donaiesolo e dunque 1-0 e partita che si fa subito importante per la squadra di Tedino che ha l'opportunità anche di raddoppiare il diciannovesimo con questo taglio ottimo di poscoliero per Amodeo, il diagonale, stavolta Benedetti di piede poi con l'aiuto della difesa anche si salva, prima timida azione della San Vitesse al ventunesimo con Cacurio che gestisce palla sulla sinistra, la mette poi al centro dopo una serie di finte per Monti che sfiora di testa, non ci arriva e Luca Berto è attento sul pallone, poi al ventiduesimo ancora ottima trama della squadra biancoceleste con Malaccarne sulla sinistra e crossa il centro per Nicoletti che di testa prova a fare il bis, non gli riesce, palla che sorvola di poco il montante, poi al trentesimo il raddoppio del Sandone Iesolo, crossa di Nicoletti, la respinta dalla difesa, poi Falloppa con un gran colpo di testa mette in movimento l'attacco del Sandone Iesolo il sinistro di Marco Rossi, pallone nell'angolino alla sinistra di Benedetti, gran gol anche per lui, terza rete in campionato per Marco Rossi per il giovane classe 91 che dunque ha la gioia anche lui del sigillo personale e va a festeggiare sotto la curva il gol del 2-0 mette poi in discesa la partita del Sandone Iesolo che entra in campo nella ripresa anche un po' più sbadato qui si fa sorprendere da questo contropiede di Lestani che serve Cacurio, il destro però Luca Berto risponde alla grande si permette anche un'esultanza liberatoria Luca Berto che dunque tiene sul 2-0 il punteggio poi questo lancio di Zanette favorisce l'insedimento di Amodeo, Amodeo solo davanti al portiere prova un pallonetto debole, non efficace, poca lucidità da parte di Giovanni sottoporta stranamente ma lo perdoniamo dopo 22 gol insomma si può anche prendere una pausa lo fa anche poi su questo lancio di Migliorini, il destro al volo, la palla respinta ancora da Benedetti che si salva poi però arriva Mattia Valdrocco che sbuca alle spalle di tutti sul calcio d'angolo ed è il 22esimo minuto, partita finita 3-0, gol importante anche il primo in campionato per il giovane classe 91 entrato a sostituire Lavagnoli, poi nel finale al 43esimo il gol della bandiera del San Vittese distrazione difensiva, Venier ne approfitta e di sinistro appoggia comodamente in rete il 3-1 che definisce l'incontro, la partita importante e altri tre punti importantissimi per la squadra di Tedino che va a salutare come al solito la curva, finisce 3-1 per il San Donaiesolo i playoff sono davvero molto vicini